Questo lavoro che è stato fatto di studi, di comportamenti alternativi che hanno portato la B&B Real Finance nasce da 50 anni ed è un lavoro estremamente dettagliato e preciso, cioè la revisione della ipotesi di razionalità e dell'ipotesi poi di mercati efficienti non è un'operazione fatta diciamo alla Carlona come potrebbe, uno potrebbe immaginare che è una cosa fatta così di tipo sistema 1, è una cosa di estrema precisione e di grande lavoro intellettuale che adesso rapidamente passo in rassegna. Dunque innanzitutto non credo che sia sensato leggere queste cose perché naturalmente ci metteremo delle ore, io le scorro e poi mi fermo su due o tre punti. Comunque uno dei punti è il punto di partenza, queste sono la strategia tradizionale degli studi della finanza tradizionale e cioè alcuni principi, il principio di arbitraggio, i principi relativi alla selezione di portafoglio, la capital asset pricing theory e la option pricing theory, tutte le teorie sono andate sviluppate grossomodo dagli anni 50 agli anni 70 che poi hanno avuto un'applicazione pratica perché c'è anche chi ha sfruttato soprattutto poi la teoria dei mercati efficienti per cercare di applicarla attraverso tentativi di battere il mercato, cioè di muoversi al di là di quello che potevano essere i risultati medi del mercato. Ora questo punto di partenza è fondato su tre idee, fondamentalmente le idee di razionalità che sono state già discusse un attimo fa dal mio collega, mi fermerò solo su un punto. L'idea è che gli individui sono fondamentalmente razionali perché seguono la propria utilità, il proprio interesse attraverso un'operazione di ottimizzazione con vincoli e che in più, l'idea però degli anni 60 e 70 hanno anche aspettative razionali. L'idea delle aspettative razionali è stata a mio parere il punto più negativo, sono molto franco per dire le cose, più negativo nello sviluppo della teoria tradizionale. Perché? Perché allora in quegli anni, negli anni 60, in realtà è nata parecchi anni prima da un incontro negli Stati Uniti di un gruppo di studiosi che stavano alla Carnegie Mellon, in cui c'era anche Herbert Simon, in quell'incontro sono andate due idee opposte, quello di razionalità limitata e quello invece di aspettative razionali. Mewt, che era il soggetto presente in quell'incontro, fondamentalmente suggerisce che la media delle persone non può sbagliare, diciamo, in media. Cioè quando noi facciamo delle previsioni non è possibile che ci sbagliamo sistematicamente. Ora questa cosa non è vera. Tutta l'operazione di analisi successivamente sviluppata, non solo a livello, diciamo, dei mercati, ma soprattutto anche a livello dei comportamenti individuali, mostra, ed è questa la base della behavioral finance, cioè behavioral economics, mostra che le persone possono sbagliare sistematicamente. E non solo, ma possono anche non correggere gli errori che essi fanno. Questi errori persistono nel tempo. Quindi il passaggio fondamentale è stato quello di capire qual è la caratteristica di questi errori, di classificarli. Ce ne sono una serie abbastanza ampia e alcuni sono stati mostrati poco fa nelle slide precedenti, per esempio l'overconfidence è uno di questi errori, ma soprattutto quella di spiegarli. Quindi tutta l'operazione successiva, quella di spiegarli, che parte dal modello duale che è stato appena citato, quell'operazione è estremamente delicata e complessa, anche perché poi naturalmente quando nasce una nuova disciplina c'è qualcuno che si butta entusiasticamente, e in questo caso, questo ha voluto dire, inventare magari, scoprire degli errori che errori non sono o che non hanno dietro una persistenza. Quindi il problema fondamentale è quando le persone possono correggere i propri errori, quando non possono farlo. È normale che noi possiamo pensare che in linea di massima l'expertise ci permette di non compiere errori. E il punto chiave nello studio di Kahneman e Tversky che hanno fatto partire gran parte di questo processo è rendersi conto che anche gli esperti sbagliano in certi contesti. Quindi ci sono errori che possono essere facilmente corretti per motivi legati a questi due sistemi che abbiamo detto, e altri errori che comunque non possono essere facilmente corretti per un motivo molto semplice, perché il trasferimento di competenze, io sono esperto in un certo particolare campo nel quale non faccio errori, in un altro campo vicino nel quale essendo novizio faccio errori, è un processo estremamente lento e difficile da realizzare. Non è che io riesco ad applicare immediatamente conoscenze da un campo a un altro e quindi è estremamente lungo il lavoro di correzione di questi errori. Ma c'è ancora di peggio e cioè siamo sicuri che alcuni siano veramente errori? Vengo a questo problema perché mi pare un problema piuttosto divertente. Ora ricordo che il punto più importante della teoria tradizionale è stato appunto la efficient market hypothesis. Questa è l'ipotesi appunto di cui legata a questa idea che stavo dicendo in questo momento, cioè che fondamentalmente il mercato, i prezzi sul mercato sono giusti, sono corretti, cioè sono sostanzialmente i prezzi fondamentali, che i prezzi fondamentali vengono immediatamente corretti quando c'è un errore di mercato attraverso processi di intervento sul mercato degli operatori. Ora l'idea è questa, se i mercati non fossero efficienti ci sarebbe comunque un'opportunità di profitto che non è sfruttata, qualcuno capirebbe che c'è questa opportunità di profitto, si lancerebbe su questa cosa e quindi i traders razionali si accorgerebbero che devono vendere o comprare dei titoli proprio perché c'è una possibilità di fare guadagno dato che questi sono sovrapprezzati o sottoprezzati. Ora l'idea del mercato efficiente implica che questo riaggiustamento avviene in modo estremamente veloce, appunto perché le aspettative sono razionali, quindi le persone sono in grado immediatamente di usare in modo totale e completo l'informazione a disposizione. Ora, così stando le cose, i mercati dovrebbero avere un andamento a random walk, cioè un andamento a passeggiata casuale. Quindi tutto il meccanismo è abbastanza semplice e chiaro. Le persone sanno razionali, sono capaci di cogliere i misallineamenti del mercato, agiscono nel modo giusto riportando i prezzi nella direzione corretta, lo fanno rapidamente e questo implica che i mercati devono avere un andamento di tipo random walk. Si può dimostrare che non è vero, partendo per esempio dal punto di vista dell'andamento dei mercati, che l'andamento è random walk, che ciò non è vero e quindi cominciare a far vedere che c'è qualcosa che non funziona in questo tipo di struttura analitica. È molto difficile farlo. Ci hanno provato in molti, ma fondamentalmente salto tutto quello che sono nella discussione che ho fatto rapidissimamente che è a disposizione. Ma questa operazione è difficile perché fondamentalmente, adesso vedo se trovo il passo giusto, perché questa richiede, ecco qua, perché richiede sostanzialmente un problema di, sotto problemi congiunti che vanno verificati contemporaneamente. Cioè per capire se una, diciamo, un'azione differisce da quello che dovrebbe essere il suo valore vero, cioè quello ottenuto scontandolo nel tempo, eccetera, eccetera, bisognerebbe contemporaneamente fare, non solo fare il test che ho detto adesso, cioè vedere se c'è un andamento di tipo passeggiata casuale, ma separarlo anche dal modello di sconto che dovrebbe essere adottato. Non sappiamo qual è il modello di sconto che dovrebbe essere adottato. Quindi questo tipo di analisi per cercare di capire se Fama ha ragione o torto, Fama stesso fa un sacco di ricerche in questo campo, per lungo tempo non ha portato a risultati interessanti. Poi alcune cose interessanti sono state fatte. E cioè trovare degli esempi di carattere molto particolare, come questo, che possono permettere di discriminare se effettivamente c'è un, diciamo, qualunque sia il valore vero, a prescindere dal valore vero, capire se una volta che si allinei rispetto a un certo valore, si raggiunga poi il valore iniziale o no. Qual è stata la strada? La strada è stata questa. Trovare un caso particolare che è questo della Royal Dutch della Shell Transport, che nel 1907 erano compagnie indipendenti e hanno messo in comune i loro interessi nella base 60-40, cioè un rapporto 60-40 che sarebbe dovuto rimanere sostanzialmente costante nel tempo perché le due compagnie si erano in qualche modo collegate fra di loro in questa forma. Guardando allora, qualunque fosse il valore vero, tra virgolette, del titolo, guardando l'andamento dei due si riesce a capire se c'è stato un riallineamento rapido nel rapporto 60-40 oppure no. Questi sono i dati storici per un lungo periodo di anni e se ci fosse stato questo riallineamento avremmo dovuto trovare il rapporto attorno a questo valore qui per tutto l'arco di quel tempo. Come si vede il meccanismo non è affatto questo, cioè il riallineamento è assolutamente avviene soltanto in alcuni punti, ma soprattutto il punto fondamentale è questo. In alcuni punti, in alcune fasi, questa, questa, quest'altra, eccetera, quello che potrebbe e dovrebbe fare l'operatore razionale, che era quello di cui si era, diciamo, che la teoria suggerisce, è quello appunto di operare l'allineamento muovendosi verso la direzione appropriata del titolo, del valore del titolo. Ma se facesse questo, in quel momento altri operatori, attenzione, allora ci sono degli altri operatori che non sono perfettamente razionali, che oggi vengono chiamati tradizionalmente i noise traders, ma diciamo altri operatori hanno mandato il titolo nella direzione opposta. Allora l'operazione di riallineamento non è più un'operazione senza rischio, di vantaggio senza rischi, ma un'operazione invece che può portare nel breve periodo, sarà pure un breve periodo, ma possono essere anche mesi e mesi, può essere anche, in certi casi lì sono anche un anno, può portare a una perdita consistente. Il problema quindi è, il meccanismo di questo genere, cioè il vecchio meccanismo di arbitraggio, non è un meccanismo che possa essere pensato come un meccanismo senza rischio e senza costi. Può portare addirittura, in certi casi, a una perdita di un periodo non irrilevante. Questo implica che naturalmente se il soggetto razionale, tra virgolette, è diciamo una compagnia, un gruppo di esperti e invece i noise traders in qualche modo reagiscono per paura nella direzione opposta, cosa che succede in un modo abbastanza naturale, chi ha detenuto, ha comperato, diciamo si è affidato in mano a un esperto tradizionale che lavora in modo tra virgolette razionale, perde la fiducia in questo perché vede che il suo guadagno non c'è, anzi c'è una perdita nel breve periodo o anche nel medio periodo. Quindi naturalmente questo rende molto più, come posso dire, rende molto più cauto chi dovrebbe agire con un meccanismo di arbitraggio e certe volte lo porta a risultati opposti e questo in qualche modo è una forma di selezione avversa all'interno del processo di selezione degli esperti e delle persone razionali. Questo è un primo dato sperimentale, ce ne sono alcuni altri, non ce ne sono moltissimi per la difficoltà che ho appena detto ora. Ora il problema qual è? Come spiegare che esistono altri che sono irrazionali? Secondo la teoria tradizionale dell'arbitraggio, Friedman l'ha detto molto chiaramente negli anni 50 e 60, chi è un noise trader, uno che lavora quasi casualmente o che è irrazionale, viene buttato fuori dal mercato perché nel medio periodo continua a perdere e quindi non c'è nessuna ragione, preverranno i razionali. Quindi la distribuzione della razionalità sembrava una normale, in centro abbiamo i razionali e piano piano sui bordi sempre quelli meno razionali. Così non è. Da questo breve esempio e ce ne sono molti altri importanti, si vede che i noise trader possono rovinare la frittata tra virgolette, in modo consistente e permanente ai cosiddetti operatori razionali. Quindi l'effetto appunto di cui si parlava è un effetto che ha tutti altri sviluppi nella dinamica di quel tipo di processo, molto diversi da quelli che si ripensavano, cioè di un raggiungimento veloce, rapido ed efficace dell'equilibrio. Ora, un altro esempio, due minuti proprio, è per esempio il fatto che, tra i vari dati sperimentali, è l'andamento, scusatemi stamattina sono malconcio, dello Standard & Poor's 500. Ora, ci sono vari esempi in cui si vede che quando si deve cambiare, si deve togliere un titolo per un merger o per una bancarotta e quindi sostituirlo con un altro, il nuovo titolo che entra può avere dei salti di media del 3,5%, c'è un caso particolare del 24%, parte dei quali permane nel tempo. Ma allora se il valore fondamentale era quello, com'è possibile che non venga reaggiustato? Questo è il secondo esempio che viene studiato abbastanza attentamente in questo caso. Quindi alla fine diciamo il discorso di fondo è, stiamo attenti perché il disegno tradizionale deve tener conto di agenti diversi da quelli che noi abbiamo pensato i rational traders, nuovi agenti che in parte venivano chiamati noise traders, ma adesso dobbiamo chiamare in un modo diverso perché dobbiamo ragionare sul tipo di errori che fanno e capire come questi errori hanno un impatto sulla dinamica dei processi del mercato. Ora, qui il discorso sarebbe lunghissimo e non c'è il tempo di farlo, quindi vado soltanto per i punti chiave sui quali ci dobbiamo muovere. Intanto la classificazione, ecco uno degli errori di cui parlava un attimo fa chi mi ha preceduto. La classificazione dei tipi di bias che sono classificabili e studiabili sono stati classificati a lungo. Uno è appunto la overconfidence, è inutile che dica altro perché ne è stato detto abbastanza, ma vorrei ricordare una cosa, questo errore risale al 700 perché addirittura, se volete ricordare questa cosa divertente, la teoria della probabilità è nata quando alcuni grandi matematici e filosofi hanno deciso che dovevano aiutare i giocatori che rischiavano sui giochi, sui tavoli da gioco di tutti i giorni per rendere razionale la loro risposta. Uno degli errori classici era giocare sui ritardi, ancora adesso la gente gioca sui ritardi. Giocare sui ritardi vuol dire sbagliare a misurare la dimensione del campione e la confidenza su questo, sui quali noi stiamo facendo le previsioni di quello che succederà. È il primo esempio di overconfidence. Naturalmente qui non aggiungo altro perché è stato attentamente studiato, ci sono due livelli molto importanti, soprattutto questo legato alla stima delle probabilità. L'altro esempio importante è l'euristica della rappresentatività e poi dell'ancoraggio, però per spiegarli in tre parole lo dico richiamando le basi della teoria da cui tutti partiamo, se vogliamo dirla così, cioè la teoria della razionalità. Ora, in tre parole, le assunzioni tradizionali che fanno sì che noi possiamo dire che appunto un trader è razionale, sono molto molto semplici, io non le richiamerò, sono qui scritte ma non le richiamerò. La lunga strada che parte da Allè negli anni 50 per esaminare se veramente le persone sono razionali è stato di correlare una serie di problemi, di questioni poste alle persone con gli assiomi che stavano dietro alla teoria medesima. Gli assiomi sono fondamentalmente quattro, quello che fa Allè negli anni 50 è dimostrare che l'assioma di cancellazione, lo vediamo un attimo solo un esempio, non è validato dal comportamento umano e quello che succede 20-30 anni dopo in un modo distruttivo per la teoria è quello di Caneman e Peschi di far vedere invece che un nuovo assunto che nemmeno era mai considerato perché era considerato banale, quello di invarianza, cioè il fatto che io ho un problema, quando lo analizzo, quando devo decidere, lo decido sempre in un modo, qualunque sia il modo in cui viene rappresentato, quello di invarianza che è il più tragico, tra virgolette, anche questo è profondamente violato. Dalla violazione di questi due punti di partenza della razionalità, vi faccio vedere cosa vuol dire, ci vuole un minuto, nascono teorie alternative rispetto alla teoria della razionalità tradizionale e di queste tre teorie alternative abbiamo tutto un lungo sviluppo che dura 20 anni, ci sono almeno 7-8 teorie importanti, nessuna di queste è riuscita a sostituire quella tradizionale tranne oggi forse quella di Caneman e Peschi perché dietro ha tutto un altro modo di affrontare il problema. Ancora qualche minuto, ora vediamo qualche esempio perché sono abbastanza interessanti, questo è stato l'esempio originale di Allè, perdeteci due minuti con me, voi dovete dire se preferite la certezza di ricevere 100 milioni di franchi, non è poi così grande, ma comunque 100 milioni di franchi oppure 10% di scelta di vincere 50 milioni, 500 milioni, 89% di vincerne 100 e 1% di non vincere niente. Pensateci un attimo. L'altra questione, altro problema che vi pongo è un altro, diverso, c'è un'alternativa tra 11% di vincere 100 milioni e 89% di non vincere niente oppure un pochino diverso, 10% di vincere molto di più, 500 e 90% di non vincere niente. Sembra una cosa banale, per tanti anni gli esercizi di che fa la teoria dell'utilità hanno ammazzato i poveri studenti, questo però è un'idea geniale perché cosa contiene questo doppio problema? Contiene una trappola, se voi preferite A a B dovete preferire C a D, in realtà la gente normalmente preferisce A a B e preferisce D a C. Provateci, ragionateci. Adesso ve ne faccio vedere uno molto più semplice e molto più interessante. Bene, con qualche metodo non così difficile e sofisticato si fa vedere che se non c'è questa correlazione tra le due scelte, le persone violano uno degli assiomi fondamentali delle decisioni. Sono inconsistenti, le persone sono inconsistenti. Interessante. Cosa fa il nostro amico Kahneman? Ne fa uno più semplice ancora, però è quello veramente distruttivo. Questo viene posto in genere a ragazzi, voi qui regerete diversamente perché avete un reddito diverso da quello dei ragazzi, però mettendovi nei loro panni. Questo lo potete vedere in pochi secondi e vi prego di guardarlo. Assumete di essere 300 dollari più ricchi di quello che eravate fino a pochi istanti fa. Scegliete tra la certezza di avere 100 in più, oppure, facciamo una moneta, se viene testa ne avete 200 in più, se viene croce non ne avete niente. Quindi 300 sicuri o 100 in più sicuri ancora, oppure un'alternativa, 0 o 200. I ragazzi che sono meno, diciamo che sono meno affluenti di voi, in genere scelgono 300 dollari, più 100, perché sono sicuri di avere un certo risultato finale. Vediamo quest'altro. Siete 500 dollari più ricchi di quello che eravate ieri. Adesso me ne tolgo. Scegliete se me ne devo togliere 100, oppure si lancia la moneta, in un caso me ne tolgo 0, rimanete con i vostri, oppure me ne tolgo 200. Anche qui, io vi dico quello che scelgono i ragazzi, penso che voi reagireste con una cifra più alta nello stesso modo. Prevalentemente i ragazzi scelgono di. Preferiscono correre il rischio di perdere piuttosto che perdere di sicuro. Ebbene, se voi guardate i due problemi, vedete l'esito di questi due problemi, sono lo stesso problema. Sono solo un mascheramento dello stesso problema in due modi. Questa scelta implica che siete avversi al rischio, questa scelta implica che siete favorevoli al rischio. Quindi una persona è contemporaneamente avversa e favorevoli al rischio di fronte allo stesso problema. Questa è la violazione dell'invarianza e questa è evidente che è un'inconsistenza mentale molto forte. Non si è fatto un'analisi attenta di tutto il problema. È stata fatta una scelta immediata e veloce. Bene, allora, evidentemente a partire da qui nascono un'enorme quantità di studi che in un minuto non riesco a raccontarvi, in un minuto e mezzo non riesco a raccontarvi, che fondamentalmente approfondiscono i meccanismi mentali che stanno dietro questo tipo di scelta e di questo tipo di problema. In particolare nasce una nuova teoria che si chiama prospect theory e che fa un'analisi dettagliatissima di come reagiscono le persone di fronte a problemi di probabilità. Per esempio, cifre con probabilità molto bassa, le persone in genere sono favorevoli al rischio. Perché preferisco buttare via mille lire, un euro, dieci euro per comprarmi il biglietto dalla lotteria, sono favorevole al rischio e quindi mi comporto in un certo modo. Spostandomi di molto poco divento di colpo contrario al rischio, poi divento favorevole secondo un andamento che è stato studiato estremamente in modo dettagliato. Il problema però era che la teoria tradizionale non può ammettere che uno è contemporaneamente favorevole e contrario al rischio. Quindi la teoria alternativa è una teoria che si fonda su un'idea di base che è quella che le persone reagiscono non al grado di ricchezza e alla sua variazione, ma solo alla variazione di ricchezza rispetto al quale stanno ragionando. Quello si chiama, questa è la base dell'idea di ancoraggio. Per andare alla fine, mi spiace di non poter approfondire un punto che potrebbe essere interessante. Questo è il modello che è stato più o meno detto dal nostro amico, chi mi ha preceduto un attimo fa, i due sistemi di intuizione e ragionamento che lavorano insieme. Io vorrei solo sottolineare una cosa, è banale che ci sia questa duplicità di cose ed è banale se pensate a come viene in mente quando parlate. Il problema chiave qual è? Che quando noi parliamo non dobbiamo scegliere la struttura della grammatica, delle parole che ci vengono in mente. Ci vengono in mente. E in mente in modo automatico, non controllato. Qual è la forza di questo sistema, di questa idea che è molto forte dal punto di vista dell'analisi empirica? È che spiega gran parte di questi fenomeni. Perché? Perché se il punto chiave è l'accessibilità in memoria di quello che ci serve per fare un ragionamento e quello che dice questo dualismo è che noi non abbiamo un'accessibilità razionale in memoria. Ci viene in mente. Non possiamo controllare il modo in cui ci viene in mente un'idea. Quindi il problema è capire perché ci viene in mente di più una cosa piuttosto che un'altra. E su questo c'è una quantità di studi molto bella ed interessante. Io sono alla fine, quindi non faccio in tempo a dirvi molto di più che ancora un minuto. Questo è un esempio dell'automaticità. Voi vedete queste tre figure come di diversa dimensione, sono della stessa dimensione. Per riuscire a ricollocare, a capire che sono della stessa dimensione dovete sfruttare un ragionamento. Perché lo sono? Perché avete in mente un meccanismo, quello di confrontare la figura con il suo sfondo che viene dal Medioevo. Se voi andate nel popolo Yanoami e gli fate vedere quelle tre figure, loro non interpretano questo disegno come una proiezione di dimensione, ma come una cosa piatta e quindi valutano questi tre come di uguale dimensione. Voi guardando quel disegno applicate automaticamente un meccanismo che vi forza a correlare lo sfondo con questo, vedendo lo sfondo come se fosse bidimensionale, tridimensionale, chiedo scusa. Allora questo è un problema di automatismo ed è un automatismo storico che è venuto attraverso semplicemente l'abitudine a guardare i quadri, a costruire quella che noi chiamiamo la prospettiva. È una questione quindi che non ha a che fare necessariamente con la biologia, ma che può avere a che fare con le norme e le tradizioni. Concludo, ci sarebbe l'ultima parte che era quella che veramente avrei voluto discutere con voi, che è quello appunto di dove vengono i meccanismi che fanno sì che emerge dalla nostra memoria più facilmente qualche cosa piuttosto che qualche cos'altro. Ebbene, l'esempio più classico che è quello della logica fondamentalmente, dimostra che questo esempio qui, che è un esempio di Wason, che è uno psicologo che ha fatto questo esercizio negli anni Sessanta, dimostra che di fronte a uno stesso problema una persona reagisce o con un lungo sforzo mentale, se voi doveste risolvere questo sono sicuro perché l'ho fatto anche in un contesto in cui c'erano 3-4 premi Nobel, tutti hanno sbagliato questo problema che è un problema logico molto banale, o con un grosso sforzo mentale e con una euristica che potrei far vedere, che è un'euristica che non vi conduce al risultato reale, ma se questo stesso problema viene mascherato, messo in un'altra rappresentazione diversa, rappresentato non in modo così astratto ma in modo concreto, le persone aiutate dai meccanismi di, come dire, possiamo chiamarlo di sfondo del problema, quindi da norme e da regole che hanno appreso nella loro vita normale, nella vita sociale quotidiana, fanno venire alla mente il meccanismo giusto per trovare la soluzione di quel problema. Quindi il vero problema dei prossimi anni, secondo il mio parere, anche dal behavioral finance e quindi nella parte di lavoro per capire cosa succede in certe deviazioni spontanee e velocissime che avvengono nel mercato, per esempio la overreaction, è quella di capire che cosa è che fa scattare certi meccanismi e come si può prevenire il fatto che scattano in modo automatico provocando una serie di azioni dinamiche sul mercato che poi per essere corrette richiedono tempo, danaro e come tutti voi sapete i problemi che tutti noi conosciamo.